Se ne sono state altre risse, altri coltellamenti, è una storia che questa deve finire, altrimenti in piazza non ci si può andare più. Dalla mezzanotte in poi è off-limite, che è diventata proprio una cosa insostenibile. Dopo la rissa sfociata nel sangue in piazza Garibaldi giovedì scorso, un giovane di 23 anni di origine marocchina è morto e per altri due stranieri coinvolti sono stati convalidati gli arresti. A Porto Sant'Elpidio l'allarme sicurezza non è arrivato solo dalle istituzioni, con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito nel Fermano nelle scorse ore. I primi a fare presente la delinquenza e la violenza che c'è in città sono stati proprio i cittadini. I residenti hanno chiesto all'amministrazione comunale una riunione. Maggiore deve essere l'attenzione tra le strade e tra le vie, perché l'aria che si respira è di paura e allarme. Non ci stanno questi controlli, loro fanno quello che gli pare, poi riprendono, poi stanno dentro due giorni, poi escono e ricominciano da capo. Se le forze dell'Ordine li porta dentro, dopo un'ora ritorna sullo stesso spazio, se io le forze dell'Ordine non perderei neanche tempo. La preoccupazione c'è, oggi tutti abbiamo nipoti, figli, quindi in queste situazioni in cui viviamo di non sicurezza purtroppo la preoccupazione c'è. Non il primo episodio di delinquenza in città, una situazione che spaventa per se stessi e per i propri figli. La riunione partecipatissima alla presenza anche del sindaco. È necessario intervenire con provvedimenti energici, tempestivi, che siano in grado di ripristinare la legalità in quelle parti purtroppo della nostra città che sono stati oggetto di terribili interventi, di terribili eventi.